Tra il mondo dei Marshall e la musica, chiamiamola country, ma neanche tanto, una musica un po' etnica, un po' particolare. Questo è un tuetto tra la chitarra e l'angel. Era di un film che si chiamava Leverance, per cui è un weekend di paura. Contava una storia molto paurosa di due che vanno con una canoa. In un certo momento incontrano in un villaggio fantasma un ragazzino portatore di handicap, ma con il dangel suonava benissimo. Oggi io starò la chitarra, Lucia farà il vento con il violino. In un certo momento quando parte il ritmo voglio vedere che battere i piedi, i mani, eccetera. Però se non lo fate vengono da voi, sta con la chitarra e la ritmo. Grazie. 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 Grazie.